Ciao, ciao, il governo italiano sta per portare un messaggio importante, la Germania ci ha gradito che il nostro paese è invaso, questo non è il test, trovati 5, a, va, vicino all'ascolto. Ciao, ciao, il governo italiano sta per portare un messaggio importante, la Germania ci ha gradito che il nostro paese è invaso, questo non è il test, trovati 5, a, va, vicino all'ascolto. Ciao, ciao, il governo italiano sta per portare un messaggio importante, la Germania ci ha gradito che il nostro paese è invaso, questo non è il test, trovati 5, a, va, vicino all'ascolto. Ciao, ciao, il governo italiano sta per portare un messaggio importante, la Germania ci ha gradito che il nostro paese è invaso, questo non è il test, trovati 5, a, va, vicino all'ascolto.